Prosegue il percorso di miglioramento del CUP, il centro unico di prenotazione della Liguria. Il cittadino che chiama al numero verde 800 098 543 può, su richiesta, prenotare una visita o un esame in tutte le strutture del servizio sanitario regionale, anche in una ASL diversa da quella di residenza. Abbiamo un servizio che è efficiente ed efficace su tutta la regione, va utilizzato nel modo più semplice possibile, ad esempio con alcune informazioni. Quando telefoniamo al nostro numero verde, unico per regione, carta e penna per poter ricevere le informazioni che chiaramente un servizio telefonico non può dare con carta stampata, con un foglio, con una bruciura. L'altra informazione è che si faccia la telefonata con la disponibilità dell'impegnativa perché l'operatore possa prendere nota delle informazioni e dei bisogni che abbiamo. La terza informazione è avere disponibile subito il nostro numero di telefono perché in caso di difficoltà, di non accoglimento di tutti i bisogni di ogni cittadino si possa lasciare questo numero di telefono. esiste un sistema di contatto diretto del cittadino per cercare di soddisfare. Attenzione anche alle classi di priorità della visita medica richiesta. Esistono infatti classificazioni diverse. La classe U è quella urgente, ovvero prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile, entro 72 ore dalla richiesta. La classe B è la classe breve, con prestazioni da eseguire entro 10 giorni. La classe D è differibile, entro 30 giorni. E la classe P è quella programmata, ovvero prestazioni da eseguire di norma entro 180 giorni. Telefonando al numero unico regionale si può chiedere la data della prenotazione della visita nel proprio territorio di appartenenza ASL o anche in un'altra ASL. D'altronde penso che sia importante per Regione Liguria far sì che il Ligure rimanga nella Regione Liguria a trovare la propria assistenza, la propria cura e non recarsi in altre regioni.